Mi chiamo Giancarlo Pinto, sono docente del Politecnico di Genova, il Dipartimento di SA della ex Facoltà d'Architettura di Genova e abbiamo organizzato in questo spazio che gentilmente ci ha concesso la Villa del Principe davanti alla stazione maritima, quindi una posizione recuperabile e di conseguenza l'uscita dall'autostrada, quindi uno spazio che si può vedere molto facilmente. In questo spazio abbiamo cercato di fare un appuntamento, di organizzare un appuntamento mensile dove diversi autori vengono a esporre e per un mese tengono la loro mostra in questi spazi. Ovviamente per presentare questo loro lavoro, il primo giovedì del mese presso la facoltà viene fatto un workshop dove viene invitato l'autore e altri professionisti e persone esperte di fotografia, è venuto anche Sandro Jovine, è venuto anche altre persone e di conseguenza poi in questa presentazione c'è il discorso di poter organizzare altre mostre. In questo spazio abbiamo inaugurato il workshop con Franco Fontana e poi hanno esposto i partecipanti al corso di perfezionamento e aggiornamento professionale, poi Paolo Cireggia, Andrea Caruba, Rolando Marini e Marco Prandelli e ovviamente lo spazio è stato inaugurato da Gastel che è stata appunto una giornata molto importante perché ha dato un po' il via a tutta questa manifestazione.